Bentrovati e bentrovate dal vostro Andrea Cartotto con un nuovo videocorso dedicato alla intelligenza artificiale e ai più piccoli. Avete capito bene, in realtà è dedicato anche ai colleghi docenti della scuola dell'infanzia e della scuola primaria, ma anche a tutti i genitori che desiderino sorprendere senza pericolo alcuno con una piccola magia i bambini. Ecco, l'intelligenza artificiale cosa può fare? Lo vedete nell'anteprima, può addirittura far prendere vita in digitale ad un disegno realizzato su carta. Per fare questo ci serve un'applicazione web, nuova e vi dirò tra virgolette segreta perché è un'applicazione della famosissima azienda Meta. Avete capito bene, proprio la azienda famosa per due tra le sue applicazioni più utilizzate vi parlo di Whatsapp e di Facebook. Badate bene, in questo caso non occorre alcun dato, non occorre registrarsi. Basta un qualsiasi dispositivo e basta andare tramite il proprio browser, programma di navigazione, sul sito di riferimento sketch.metademolab.com. Dopodiché clicchiamo sul tasto blu Get Started e ci viene mostrata l'anteprima del nostro disegno di partenza, cioè come il disegno risulti gradito. Frontale, non troppo complesso, un classico disegno da bambini. E allora, se io vado a cliccare ora sul pulsante Upload foto, io che cosa devo avere? Vedete la mia cartellina disegni da animare? Devo avere almeno fotografato un disegno del mio bambino, della mia bambina. E ringrazio in questo caso per questi bei disegni la mia cara amica e collega Manuela. Vediamo, io ho fatto una piccola selezione, cosa succede se clicco sul pulsante, anzi, pardon, sulla miniatura di Arlecchino. Poi vado a cliccare su apri, diamogli qualche istante per il caricamento. Ancora un click su next questa volta e pur se non vi è alcun pericolo, clicchiamo in questo caso su disagree, cioè non forniamo neppure incidentalmente alcuna informazione alla azienda meta per sviluppare meglio il servizio. Tramite queste maniglie di ridimensionamento io potrei nuovamente ritoccare gestire il disegno, ma sovente lo vedremo già delimitato e vedrete che saremo già a posto. Un click dunque su next e la magia si concretizza qui. Vi consiglio di non adoperare questi strumenti per quanto io vi mostri che abbiamo strumenti gomma o strumenti disegno per magari pulire alcune impurità. Clicchiamo dunque su next e ecco la mappatura dei punti del nostro disegno, un click ancora su next e la magia è qui. Guardate, l'arlecchino disegnato su carta, ora è un arlecchino saltellante. Abbiamo diverse categorie come potete vedere da cliccare. la categoria walking, io il mio arlecchino lo faccio camminare semplicemente cliccando su uno dei quadratoni. Bello eh, che ne dite? Quindi ho davvero tante piccole possibilità per capire come l'intelligenza artificiale possa essere utilizzata a scuola in una maniera attenta, semplice. Non potremo scaricare il nostro lavoro, la nostra animazione, però potremo cliccare su share, pulsante con la freccia come vedete ricurva. Si aprirà o si potrà aprire il riquadro della condivisione. Guardate, lo rifaccio con voi. Avete visto che mi ha, come dire, restituito un piccolo errore. Clicco sul bottone fix, clicco su next ancora, guardiamo insieme. Eccoci qua, siamo tornati alla versione saltellante. Clicco su share e adesso quel cerchietto che si muove mi dà le possibilità di condivisione. Ebbene, tra queste possibilità scegliamo copia collegamento. Io di fatto adesso potrei archiviare in un documento Google, in un documento di video scrittura facendo semplicemente in colla l'indirizzo che ho appena copiato. Potrei inviarlo via email, via whatsapp, via un qualsiasi applicativo di comunicazione ed avrei banalmente un link di sola consultazione che mi mostrerebbe. Ecco qui, semplicemente questo. Quindi vi invito a provare la intelligenza artificiale calata sulla scuola. Questo è Meta Demo Lab. Questa è l'intelligenza artificiale per i più piccoli. Provatela e fatemi sapere. Ancora un caro saluto a tutti e a tutte voi dal vostro Andrea Cartotto.